Buon pomeriggio a tutti ragazzi, allora concludendo il discorso, report quello che è uscito ieri nulla di nuovo, non mi aspettavo nulla appunto partendo dalla parte finale della puntata nella quale c'è la parte appunto che dice il conduttore Sigfrido che di fatto è un problema che riguarda molte altre squadre ieri poi ci sono stati video di altri youtubers molti qualcuno ha avuto la decenza di parlare di questo argomento in maniera abbastanza cauta e non di parte c'è chi poi ha fatto video cancellati quant'altro insomma altri hanno parlato poi un po' come stiamo vedendo adesso sui social gente che già dice ecco mafiosi, indragantisti e quant'altro quando all'inizio della puntata la report ha detto che nessun nessun dirigente a Juventus è coinvolto in questa faccenda quindi tutti assolti nessuno neanche indagato a parte Agnelli che poi è stato assolto di fatto nessuno è coinvolto in questa faccenda qui perché non è l'andrangheta perché molti poi fanno passare questo messaggio l'andrangheta è dentro a Juventus anzi il report poi che mi ha stupito per certe cose in maniera positiva ha detto una cosa sacrosanta l'andrangheta ha provato a infiltrarsi nella società Juventus ma la Juventus avendo gli anticorti forti ha resistito e non ha fatto sì che appunto questo accadesse quindi di fatto ha sbugiardato un po' tutti gli antiguentini che erano già pronti lì a dire ecco la Juventus tranquillista e quant'altro 20 individui una ventina di individui poi ovviamente i nomi più importanti sono 3 o 4 però di fatto su 9.000 persone che sono abbonate alla curva sud in curva sud e questo deve far pensare che alla fine non sono poi appunto il report ha concluso il discorso dicendo che questo problema qui è in tutte le tifoserie in tutte le curve in tutte le squadre in tutte le società ok il problema quello che dico sempre io è che poi queste società vengono lasciate un po' sole il fatto che venissero scambiati i biglietti dalla società ai gruppi Ultras davanti alla Digos quindi davanti alla polizia di fatto con la polizia e la Digos che si voltavano dall'altra parte vi fa capire che anche la polizia ha le mani legate perché probabilmente lo Stato invece di proporre Salvini io lo stimo e quant'altro però invece di proporre il fatto appunto di pagare le forze dell'ordine il 10% alle società di calcio quindi le società di calcio dovrebbero pagare il 10% di stipendio della giornata alle forze dell'ordine cosa che appunto il calcio contribuisce già in massa praticamente agli incassi dello Stato perché comunque i 30 milioni di euro hanno i netti di Ronaldo sono 30 milioni lordi 60 milioni lordi quindi sono 30 milioni che vanno comunque nelle tasche dello Stato comunque a parte questo dovrebbero invece proporre una cosa una soluzione che faccia sì che appunto si riesca ad aiutare le società e che non siano soprattutto ostaggio adesso arriviamo a un altro discorso perché la Juventus quando ha fatto quel ricorso lì ricorso poi discorso anche da me per quanto riguarda la motivazione poi discorsa anche dai droghi che poi io sono dell'idea che molti di quelli che spongono quegli striscioni lo facciano in buona fede cioè dicono effettivamente ti indigni anzi ti indigni scusate per un Napoli usa il sapone chiedi il Daspo per un Napoli usa il sapone però poi non chiedi la stessa soluzione per i meno 39 è questo che ha fatto un po' girare le palle alla curva ai droghi che poi hanno sposto lo striscione poi che ci siano dentro i vari gruppi ultras gente che poi non so espone queste striscioni qui semplicemente perché non ha più introiti rispetto prima e quindi diciamo che il fatto che venga chiesta perché poi nel ricorso esposto dalla Juventus contro la chiusura della curva sud c'è stato un passaggio che nessuno ha mai considerato ha parlato di responsabilità soggettiva cioè la società Juventus ha fatto una proposta cerchiamo di venirci incontro noi società con voi FIGICI Procura Federale cerchiamo di far sì che ci sia una responsabilità soggettiva cioè se c'è un qualcuno che fa determinati che ha determinati comportamenti fa determinati cori e quant'altro invece che dare la multa alla società dato che noi come Juventus abbiamo la possibilità di tra l'altro anche D'Angelo è stato beccato proprio dalle telecamere dello stadio quando c'è stato quello scambio di Stricioning lì adesso non so se fossero veramente quelli su Superga e quant'altro perché poi sapete è facile poi manipolare anche certe cose però lasciamo il beneficio del dubbio e pensiamo alla buona fede per quanto riguarda l'eporto sotto questo aspetto però di fatto noi abbiamo le telecamere abbiamo gli strumenti adatti per individuare appunto i responsabili poi sapete io Napoli usa il sapone lavare col fuoco io ho quei cori li lascerei tranquillamente il problema sono magari i cori su Superga i cori veramente a sfondo raziale cioè parlo non di burazzisti burazzisti tra virgolette corri veramente contro il colore della pelle anche perché appunto a parte la chiusura della curva questa responsabilità oggettiva di fatto mette le società di calcio in mano ai gruppi ultras ai gruppi organizzati a qualche delinquente perché non sono tutti così per fortuna però di fatto questi qui sanno che se fanno certi cori fanno prendere la multa alla società e quindi di fatto poi chiedono delle cose che sanno che otterranno di sicuro la Juventus in quest'ultimo periodo non lo fanno lo sta facendo infatti prende multe a destra a sinistra perché di fatto è ostaggio di alcuni delinquenti perché ripeto va bene il colo contro Napoli vabbè fallo contro il Napoli fallo ok però non non farlo quando ci sono insomma altre partite e con continuità semplicemente per far prendere la multa alla società perché tu stai facendo questo di fatto e questo è il problema principale per eliminare o quantomeno ridurre questo problema non solo di mafia ma soprattutto anche di ricatti da parte di alcuni ultras nei confronti della Juventus è proprio eliminare e levare la responsabilità oggettiva e mettere la responsabilità soggettiva cioè tu rispondi delle tue azioni non che la Juventus o una qualsiasi altra società risponda delle azioni tue tu rispondi delle tue azioni perché lo stadio e la curva l'ho sempre difesa io i gruppi ultras li ho sempre difesi ma quello che non ho mai sopportato in quell'ambiente lì è che molta gente pensi ok che sia zona franca che si possa fare tutto no questo non deve essere assolutamente concepibile chiusa parentesi ragazzi concludo così per quanto riguarda l'epport questo discorso alla fine riguardava soprattutto appunto la responsabilità oggettiva e soggettiva ci vediamo al prossimo video stasera forse probabilmente live per quanto riguarda il Manchester United Juventus e poi il video post partita come sempre ok buona giornata a tutti e sempre fino alla fine forza Juventus grazie a tutti